Allora, torneo PES, ecco il tabellone, diciamo in partenza che Fata 92 è lo slot 3, procediamo con le altre estrazioni. Allora, qua sono i numeri e questi sono i partecipanti, giriamo per questi, ok, primo astratto, numero 7, abbiamo Armin 86, poi numero 9, 9, numero 9, abbiamo Cataclisma, eccolo, legge, spero di sì, numero 9, Cataclisma, 12, 12, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, ok, Ok, allora procediamo, 8, abbiamo Morino, Murignopoli, eccolo qua, Ok, numero 8, ok, andiamo avanti, numero 5, numero 5, numero 5, Giuse P85, Giuse P85, Anzi, numero 4, numero 4, da Dinanico, Dinanico, va bene. Numero 2, numero 7, numero 5, abbiamo Sceva, Pato, Cacà, ok, numero 11 abbiamo sal 98 sal 98 anzi numero 11 numero 11 numero 11 franchi franchi numero 6 marcom marcom a 6 è rimasto il 10 e ovviamente tirone al 10 bene questi sono i sorseggi buon torneo a tutti alla prossima